Bentornati su MyFootballGersey. Continuiamo con le anticipazioni del prossimo campionato. Questa è la seconda maglia del Liverpool, mi raccomando non ancora ufficiale, in edizione Player. Questa è la seconda maglia del Liverpool. La maglia è molto bella, dal vivo molto di più che non in foto. Nella mia classifica prende 4 stelle, bellissimo questo motivo verde e la rifinitura in nero su bianco è stupenda. Qui in alto vedete il costo, che per una versione Player fatta così bene, che arriva peraltro anche molto velocemente, questa è arrivata in 18 giorni, è bassissimo. In descrizione, qui sotto, trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Trovate anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete utilizzare sul sito per comprare quello che volete. Prima di lasciarvi la parte finale, se il canale vi piace e volete farci crescere, regalateci un grande like e iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia Large della versione Player.